Il Teatro San Carlo di Napoli Non c'è nulla, una legge che prevedeva un taglio del 35% dei salari dei lavoratori, quindi non riesco a comprendere come si possa rilanciare un teatro tagliando i contratti dei lavoratori, quindi la loro dignità e la loro forza. Una legge che non punta sulle risorse interne, una legge che di fatto commissaria le fondazioni lirico-sinfoniche, una legge che non abbassa i costi di produzione, che non elimina le esternalizzazioni. L'esatto contrario di quello che noi con trasparenza stiamo cercando di fare da due anni, da quando è finita la stagione del commissariamento nel Teatro San Carlo di Napoli. Mi sono battuto con forza, con determinazione, con coraggio in una posizione di isolamento all'interno del CDA perché da sempre sono stato convinto che il teatro non rientrasse nelle condizioni necessarie per aderire a quella legge, ma quello che mi ha dato la forza determinante e incisiva per portare a compimento questa battaglia è stata l'energia, la passione, l'entusiasmo e la competenza delle lavoratrici e dei lavoratori del San Carlo, che in modo unanime sin dall'inizio mi hanno detto, ci hanno detto a tutti i componenti del CDA, noi non vogliamo entrare in questa legge, non solo per la difesa dei nostri salari, ma anche per posizioni di grande dignità culturale perché il San Carlo deve avere una sua forza, una sua autonomia, non deve essere commissariato, il San Carlo deve avere un piano di rilancio, rinnovamento e ristrutturazione che punti soprattutto sulle risorse interne e questo è quello che vogliamo. È stata una giornata storica, emozioni incredibili, rammarico, rammarico perché quattro componenti del CDA si sono dimessi, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, il componente espressione del Governo e il Presidente della Camera di Commercio. L'invito a rientrare in questa loro decisione, non si può abbandonare il San Carlo, non dimenticherò mai le facce, le lacrime, l'emozione dei lavoratori questa notte, quindi mi batterò da Sindaco di Napoli, il Presidente della Fondazione perché ci sia una svolta decisiva nel teatro. Io propongo un azzeramento dei livelli direggenziali e verticistici del Teatro San Carlo, si apre una stagione nuova in cui i protagonisti devono essere esclusivamente le lavoratrici e i lavoratori, le istituzioni al loro fianco, una partecipazione forte dal basso da parte loro, il teatro bene comune, il teatro patrimonio storico dell'umanità è innanzitutto il teatro che vive grazie alle lavoratrici e i lavoratori. Loro ci devono aiutare, devono scrivere insieme a noi il piano, devono decidere con una squadra compatta come andare avanti, non posso dimenticare che in queste settimane c'è stata una unanime e forte richiesta di rilancio, di cambio, di rinnovamento, quindi oggi si svolta. Oggi non decide il Sindaco, non decide il Presidente della Fondazione, non decide la politica, non si decide dall'alto, la cultura non può essere spropriata, la cultura non può essere commissariata, la cultura è diffusione delle energie, è potenza dal basso, è energia vulcanica come la nostra città. Decideranno il loro futuro le lavoratrici e i lavoratori del San Carlo, io starò al loro fianco, scriveremo un piano che rilancerà il teatro a livelli mondiali, che già è un'eccellenza mondiale, punteremo sulle risorse interne, abbatteremo i costi, elimineremo spese inutili, punteremo sulle nostre energie, le nostre professionalità, le nostre competenze. Insieme vinceremo qualsiasi battaglia, anche contro chi con manovre subdole cerca con cavilli burocratici o scorciatoi da zecca carbugli di imbrigliare la cultura nella nostra città, noi le spezziamo le catene di chi vuole commissarare e spropriare il teatro massimo della nostra città.